io vado a rozzo guarda se c'è la macchina guarda io mate guarda se c'è tipo qua guarda tipo qua vado io karma lì gira arrivo ma freddo il mio passaggio no freddo il mio passaggio corri sincro ma la moto l'hai depisciata hai preso tutti? ce n'è un'altra regga di moto alla dash ci devi mettere sotto sincro tipo no sincro lo blocco io dai regga sono arrivato l'ho bloccato l'ho bloccato mi tira sotto il figlio della merda mi dispiace ci ho provato di bocca ma sincro ancora non hai imparato come si attraversa sulle strisce lo fermiamo qua e controlliamo uno è qua sotto regga uno è proprio qua vicino uno è proprio qua vicino a noi qua destra subito bloccato però un bel mirino ah c'è un'altra destra c'è un'altra destra subito qua destra guarda il compagno quello bloccato lo vedo ti resti lo vedo uno sta vedendo verso di me lo vedo davanti ho bloccato uno c'è l'altro in mezzo alla strada ho bloccato un altro manca l'ultimo manca l'ultimo dov'è dov'è l'ultimo quanto è vicino a me regga io non capisco no 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 è davanti dritto noi davanti ma cazzo guarda che gli attimo qualche flag qua ma cazzo dietro di noi si ferma ma cazzo dietro di noi da dove cazzo è uscito qua c'è davanti ragazzi sono in due ah li vedo sono in tre sono in tre mi devo curare poi è toccato un altro ok quello ok quella sinistra è toccato un altro let's go baby lasciami direte a colpi karma lasciameli ok uscito con la sinistra lasciami i trattacolpi vai vai ok giriamo regga dobbiamo trovare questo qui non so se sta restando questa a sinistra quella a sinistra è ucciso ok ok quindi rimane l'ultimo sta restando tutti flanca da destra flanca da destra frago come uno stronzo ce l'è qua davanti ce l'è qua davanti bro e sono proprio davanti a te nemmeno dieci metri oh regga bel lavoro comunque raga in tutto questo abbiamo fatto il delirio qua c'è gg questo bisogna dirlo infatti è andata da paura buono gioco doppio preparatevi che ci muoviamo quando si chiude 16 regga comunque siamo fatti due team in una velocità impressionante attenzione guardiamoci intorno magari qualcuno ha tirato da prima perché se là ci sono ok centrali io rimarrei qua non so voi portiamo prendiamo la dacia portiamo tutte le macchine vicine c'è un uaz dietro di me non l'ho mai visto quell'uaz regga fermi un secondo regga no 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 regga c'è un uaz 100 520 li vedo li vedo a sud a sud no questo no questo è più a destra questo è più a destra no 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 questo è più a destra ah l'ho visto da me è a 240 mi serve un punto più o meno allora mi porto io là a mirare che ho l'otto per white guardate dall'altra parte prova a mirarlo io lo vedi? lo vedo l'ho visto vai spostati a destra vai a guardare se vengo da nord ovest ah l'ho visto sono due ok qua sotto dietro dietro l'albero noccato uno c'è un altro dietro l'albero esatto ok è felipista è felipista quello regga possiamo non è noccato regga resta il compagno quello ce n'è anche uno all'albero a destra white di quello a destra e dietro ok c'è un albero molto vicino a noi dove ho tirato la granda ce ne sta uno ah ce n'è anche un altro io ti ho taglato perfetto non è morto lì dove è l'altro? poi ti posso girare a sinistra vedi che c'è un albero gli vedo la testa fatto bella bravissimo c'è il compagno di questo sicuro è lì dietro l'albero è l'albero centrale white sempre là quello quello a destra di quello lo stai puntando si ma sono tre regga ok bravo è avvistato è avvistato la vaca lì trago trago è qua davanti a noi noccato uno è qua davanti a me non vi state divertendo grazie mille non vi state divertendo ho caricato ora li pusheranno ora pusheranno tranquilli cioè andranno a salvare il compagno ecco sta crossando sto andando cittato sta sparando qualcun altro si dall'albero più vicino no precisamente sta sparando questo preso c'è un altro qua sotto blanco no davanti a noi qua 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 è qua regga lo vedo l'ho preso è morto non lo so se è morto regga mi dite se la kill è quella mia si si tre kill quindi si ok potete lootarli veloci ok occhio lo vedo lo vedo dov'è ah l'ho visto anch'io non sono più uno eh 2,40 wow quella è una vm quella è una vm ecco la sopra si sono proprio sopra la collina 2,40 sud ovest scusate una volta mi sta sparando qualcun altro mi sta nittando non so da dove quella è una vm cazzo da sinistra il problema è la sinistra ora che mi preoccupa allora io mi vado a posizionare lì si è arrivano corrono ti vedo ti vedo ti vedo ti vedo spostaccio in safe raga lo vedi dietro l'albero a sinistra si si non ho a finire oh ce n'è uno davanti vai dietro l'albero vai dietro subito l'albero ce l'hai proprio a tua destra white ha visto questa strana di persone mi sono venuto a meno dove ti hanno sparato sono tutti sopra la collina cosa sono 3 v 1 v 1 lì sopra le colline sono almeno 3 io ne ho visti 3 il tipo di giro il misario hai visto solo con me? hai visto? hai visto? hai visto? Bello Popp's worker Con calma Allora non so dove è andato questo qua davanti Qual è di questi due alberi? Eh boh aspetta Eh aspetta no perché lui c'ha la safe No lui c'ha la safe Eeeh boh Eccola Bella Bravissima H1 ancora Niente non l'ho visto No che sfiga Eh regà non l'ho visto lo facevo Se lo sapevo lo facevo Eh no no lo so lo so Qua era la safe Cioè quando ti sfiga proprio Eh vabbè regà Riccato How could this happen to me I made my mistakes Got nowhere to run The night goes on As I'm fading away And then the And then the